No no! Ha la mogliere! Eh, la mogliere! No! Sì, io ho visto cos'è, no! No! Ah! Uh! 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 Ah! 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 C'ho la fai fa dove fai con l'epone! Sto facendo un video! Vabbè, la mola mia! Vole un telefono mio! Sto facendo! No! Eh! Qua vado come io! Faccio il fotografio! Ti preoccupavo, ti manno faccio! Facciamo una città presa! E ti mettono tutto sotto! Sotto o no? No! Sto facendo un video? Eh, beh! Giano, tu inizia a scattare! Puoi dimmi! Arwin! Puoi dimmi! Oh mola, puoi dimmi! È un bello! È un passaggio! È un passaggio! È un passaggio! È un passaggio! Vai! Ti metti a fare questi fotografi! È un passaggio! Ti metti a prendere! Senti, com'è? Sono pronta! Ecco! Io sto dicendo sempre! Eh! Adesso, come fai? Vai! Allarga! Ti metti! Eh! Stui! Ti metti! Eh! Ti metti! Ah! No! Non me la sapendo! Ti metti! 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 Ti metti!